Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi 14 settembre, quali sono i temi fondamentali della giornata? L'avevamo già intuito ieri, vedrete se volete il video che ho fatto ieri riguardo al commissario europeo Pierre Moscovici che dice che stanno crescendo oltre a bacchettare come sempre l'Italia che in realtà non vede Hitler in giro semmai piccoli Mussolini, come per dire Hitler serie A, piccoli Mussolini serie B, già in questa divisione tra nazismo fascismo, insomma favoloso proprio nel retropensiero di questo piccolo Bonaparte, diciamo così il minimo che gli possiamo dire a questo cretino che pensa di dire e di evocare quello che sta succedendo oggi e raccontarlo con l'idea degli anni 30, come se la storia si ripetesse, ma lasciamo perdere questo, i titoli dei giornali oggi parlano di scontro Europa-Italia, io a casa mia definirei questo attacco dell'Europa all'Italia in maniera non pietistica, senza nessuna aria pansè che ci sia un attacco diciamo complottista, ma se un commissario europeo per gli affari economici dice che stanno nascendo nuovi Mussolini e che siamo negli anni 30, io mi chiedo se la Repubblica di Weimar sia lui o siamo noi e se Mussolini siamo veramente noi o sono i presidenti francesi che vanno e attaccano in Libia senza nessun consenso internazionale. Detto questo Giorgio Aug, detto questo oggi ovviamente i giornali tutti quanti si dividono e titolano su questo, è divertente il pezzo, il titolo del giornale, resuscitano il Duce. Cerasa sul foglio dice che forse Moscovici ha esagerato, come è esagerato? Cerasa, Claudio io ti conosco bene, ma come fai? Cioè è tanto più credibile la tua critica a questo governo, quanto più sia forte la critica nei confronti di questi cretini di commissari europei che dicono cose assurde come quella che stiano circolando in Europa tra Salvini, Di Maio eccetera, piccoli Mussolini, insomma non scherziamo con le parole. Peraltro l'altra questione fondamentale è che proprio oggi i giornali citano Draghi che dice che le parole di questo governo ha fatto male all'economia. Allora io mi chiedo perché nessuno ha messo in relazione le due cose? Se le parole di questo governo hanno fatto male all'economia, cosa in parte vera perché i mercati sono molto sensibili alle parole, i mercati non sono forse sensibili anche al fatto che un commissario europeo si permette di dire che ci sono Mussolini in circolazione in Europa e in Italia in particolare? Allora porca puttana, se è un grave quello che dicono Di Maio e Salvini riguardo non so all'euro oppure al 3%, un investitore americano o asiatico che vede che il massimo esponente degli affari economici europei dice che in Europa ci sono Mussolini, quelli secondo voi sono confortati da questa dichiarazione del massimo esponente europeo, sto cazzone di Moscovici che nella sua carriera, come ricorda qualcuno oggi sul Libero, ha forse soltanto quello di essere riuscito a far drammaticamente fallire l'ultima campagna elettorale di Hollande? Questo non è un attacco ad personam, questa è una situazione imbarazzante per cui ogni italiano, anche non grillozzo, dovrebbe dire non permettiamo che questi si permettano di dire cose di questo tipo in Italia. Molto divertente a questo proposito un pezzo che non c'entra nulla sul Libero di Farina in cui dice attenzione Apple perché con l'ultimo telefonino che hai presentato ieri che si chiama De Dieci Max, qua ti faranno un culo così perché penseranno che sia decima massa, che stai evocando il fascismo europeo, insomma un pezzo divertito e divertente sulla follia diciamo iconoclasta che c'è in questo momento nei confronti di chi non la pensa come l'establishment europeo. Adesso una volta distrutto questa critica dall'esterno iniziamo a fare le critiche che invece uno potrebbe fare a questo governo leggendo i giornali di oggi ce ne sono mille esempi che sono uno più diciamo drammatico dell'altro. Il primo che basta leggere il fatto e capisci come loro hanno una specie di doppia morale. Le autorità indipendenti sono indipendenti soltanto quando a guidarle sono dipendenti dalle idee del fatto. Quando sono indipendenti dalle idee del fatto le autorità indipendenti possono essere meno indipendenti e possono essere cancellate dal volere del governo sempre che il governo sia un governo che piace al fatto. Non so se avete capito il gioco di parole ma è molto semplice. Il presidente della Consob che è uno stronzetto, ve lo dico io in maniera semplice, ne scrissi io nella zuppa di porro perché è un po' così? Perché è il figlio delle tecnologie europee, è stato scelto da Gentiloni, è un grande funzionario della Commissione europea, è uno dei pochi italiani che comandava e aveva un peso in Commissione europea. È iniziato un errore portarlo dalla Bruxelles all'Italia perché ci aiutava molto più a Bruxelles che in Italia ed è stato reso presidente della Consob. Ma fatta questa premessa e fatta anche la premessa che lui non voleva dimettersi dalla Commissione europea ma voleva rimanere in aspettativa per un semplice banale motivo che prendeva meno soldi in Italia, aveva meno carriera in Italia rispetto a Bruxelles, tutte cose che hanno a che vedere con le piccolezze nostre e umane di tutti noi, ma il fatto che il governo ieri attraverso i rappresentanti nei giorni scorsi nei quattro capogruppo della Lega e del Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni del presidente della Consob e il presidente della Consob non ha avuto le palle di resistere, perché è ovvio che non resiste con un governo che hai completamente contro, con il 60% del Paese contro, ti dà l'idea, ti dà l'idea di come questi autoritori indipendenti alla fine sono indipendenti sulla carta ma molto dipendenti dalla politica e non è un bel segnale. Voi non volete un presidente della Consob nominato e disdetto, come sempre è venuto peraltro in Italia, dalla politica. Questi, come gli altri, hanno cercato di cambiare le regole all'interno della etichetta Consob. Te li dovete tenere purtroppo per questi anni, non è oggetto di spoil system. Questo commento oggi manca ovviamente sui giornali, forse un po' il messaggero ha una posizione su questo. Il Sole 24 Ore è quello che ci deve dare tutte le notizie, come dice Serra e il nuovo direttore Tamburini, mi sembra che di notizie oggi non ce ne dà moltissime, se non una molto importante che hanno anche gli altri giornali. Buongiorno a Rita. E cioè che il 94% degli operai dell'ILVA accettano l'accordo con Mittal. 94% e ci avete fatto perdere tre mesi. Un mese è stato totalmente perso per il ponte di Genova, oggi un po' lo dicono tutti quanti i giornali riguardo al decreto votato dal governo sulla ricostruzione che non c'è, non c'è il commissario, non si capisce chi dovrà ricostruire il ponte, si capisce soltanto che ci sarà in Fieri una grande opera di monitoraggio della situazione elettronica con un database delle situazioni dei punti italiani. Grazie. Pensiamo che ci fosse anche prima, il fatto che non ci fosse prima siamo contenti che questo governo l'ha risolto, ma il problema è vero, come dice la stampa oggi dalla parte di Genova, ci mettiamo noi e si dovrebbe mettere il governo che in un mese non è riuscito a fare nulla. non c'è il commissario, non c'è il decreto, non sa chi si ricostruisce, si conosce soltanto uno schizzetto regalato dal caro amico del vecchio governo, architetto Piano. Sul ponte di Genova quindi vedrete pagine e pagine di ricordo. Sul fatto parla il sottosegretario dell'editoria che dice attenzione a Mediaset, metteremo i tetti della pubblicità, ognuno che arriva inizia a minacciare ovviamente Berlusconi. Feltre e Travaglio oggi c'è due bersagli diversi e poi voi leggete Feltre e leggete Travaglio, leggete Travaglio e vedete la bava alla bocca, leggete Feltre e leggete uno cattivo come la peste, ma comunque che ha sempre un garbo nell'esporre le sue opinioni, anche se è cattivissimo anche Feltre. Oggi dice David Parenzo, l'unico ebreo del tutto fesso, sarebbe il giornalista che con Cruciani fa la zanzara e che a lui sta sulle balle per il semplice motivo che difende gli immigrati, cosa che Feltre dice, ma che li difendi a fare. Ma il pezzo, ve lo potete leggere, è un pezzo cattivissimo ovviamente nei confronti di Parenzo, ma non ha quella bava alla bocca che tu leggi quando leggi Travaglio, che è quest'area susseguosa che chiama Carlo Zero Cottarelli, che sarebbe stato pagato dagli italiani avendo perso il posto di lavoro, cioè il Presidente del Consiglio, pagato dagli italiani perché lavora da fazio. La sua posizione è molto simile a quella che aveva il giornale nei giorni scorsi, mi diverte molto vedere come sia, come solo Travaglio è dal di sopra di ogni pagamento, cioè se Cottarelli è pagato da Fazio e da Floris va bene, se non va bene, se invece lo è stato lui da Santoro e da Floris invece va bene come ho fatto nel grande passato. Vabbè, lasciamo perdere questo. Oggi il mattino titolo a pagina 1, Mastella assolto, intervista a Mastella, l'impresentabile Mastella, beh, molto divertente perché Mastella dice forse sono l'unico al mondo a essere stato indagato 15 volte, secondo me non è l'unico, ce n'è qualcun altro, ma il vero punto per cui lui è unico, che gli hanno chiesto almeno 100 anni di carcere, come fosse il peggior mafioso, quante volte l'hanno condannato? Zero. Il tremendo, orrendo e bruttissimo Mastella rivendica questa sua, come possiamo dire, pulizia, verginità, insomma rispetto ai magistrati devo dire che gli hanno fatto di tutti i colori. Parenzo dimostrazione della legge di Peter, dice Silvia, tutti ce l'hanno i miei amici con Parenzo, io no perché io lo trovo invece molto molto intelligente, certo condivido molto poco quello che dice lui, però devo dire che Parenzo invece è tutt'altro che fesso. Vada retro travaglio, presuntuoso come nessuno, buongiorno, su Mario Diachi che ci dici, il vero governatore dell'Europa, per fortuna che c'è stato, vi dico perché se no a questo punto il nostro debito l'avremo pagato molto più caro di quanto abbiamo fatto da quel luglio in cui lui dice che avrebbe fatto ogni cosa in suo potere per non far uscire e rompere l'euro. Brutto è mio amico, Parenzo fa pena, oh tutti contro Parenzo, Danilo si arrabbia perché dico che non è intelligente, vi sbagliate. Un saluto a tutti quanti voi, se vi piace Luigi che si chiama come me, quindi un super saluto e un abbraccio a tutti quanti voi, condividete se vi piace questa zuppa, noi ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it. Ciao!